Prima puntata della nuova rubrica che leggerà la spiaggia più bella dell'anno 2021 per i lettori di Gazzetta del Sud. Il nostro viaggio comincia dalla prima municipalità. 20 chilometri di villaggi costieri da Tremestieri a Giampilieri. Qui la principale causa di mare negato è stato il porto. Gli effetti più importanti si sono visti sull'abitato di Galati dove una vera e propria muraglia di fatto impedisce l'accesso al mare. Ma oggi andiamo a vedere una delle spiagge più belle, quella di Santa Margherita. Siamo con il consigliere della prima municipalità Maurizio Pietroburgo, un appassionato di mare si è sempre occupato delle problematiche che riguardano la costa. Con lui siamo appunto sulla spiaggia di Santa Margherita. Qui c'è qualcosa che però proprio non funziona, l'abbiamo provato prima. Purtroppo nonostante gli sforzi dell'amministrazione e la nostra presenza sempre sul territorio abbiamo gli atti vandalici che continuano a perseverare sia nella zona sud che nella zona nord. Vediamo le docce che non funzionano, sono stati staccati i rosoni e ovviamente l'amministrazione ha dovuto scollegare il tubo per evitare perdite di acqua, visto quanto è importante l'acqua. In questo momento vorremmo farci una doccia ma come avete visto almeno in questo punto non è possibile, però dall'altra parte come potete vedere ci sono anche i bambini che in questo momento ne stanno soffruendo. È stata installata un'altra doccia. Quattro parametri, servizi, food, pulizia e paesaggio. A che punto siamo a Santa Margherita? Guardi, il paesaggio per la sua sistemazione per quanto riguarda Messina Servizi sta mettendo molto di suo, infatti la spiaggia è fruibile. Per quanto riguarda la ristorazione abbiamo visto che ci sono dei liti che si stanno attivando per riaprire al più presto, infatti già si vedono sistemati e tutto. La zona potrebbe dare di più perché visto la sua conformazione naturale già si presenta da sola e potrebbe essere uno dei fiori all'occhiello della zona con gli autobus che i ragazzi spesso sono costretti a perdere gran tempo della loro giornata perché le linee diciamo molte volte non sono ben servite. Per quanto riguarda la struttura, la location per quanto sia naturalmente già di suo bella perché diciamo se basta che giriamo gli occhi verso la spiaggia vediamo già che basterebbe poco per renderla ancora più fruibile. L'amministrazione sta mettendo molto di suo però abbiamo sempre a che fare come abbiamo visto poco fa con dei vandali e cercare un attimino di attenzionare ancora di più i servizi che l'amministrazione sta cercando di portare avanti. È una delle diciamo poche passerelle che ci sono sui tanti chilometri di costa messinese però che succede? Come possiamo ben vedere già questo problema se non sbaglio l'avevamo riscontrato anche l'anno scorso e si ferma solo a un certo punto e quindi i disabili sono costretti a stare qui a prendersi soltanto il caldo e non godersi il mare. Basterebbe magari farne una bene che arrivi fino alla spiaggia e non farne tre e lasciarle incompiute. Avrebbe un senso forse fare questo che lasciarne tre incompiute e lasciare i disabili alla calura. Che voto darebbe a questa spiaggia? Come è migliorata o peggiorata negli anni? Guardi bene o male la situazione è sempre la solita perché se ci portiamo verso il mare allora andiamo a vedere le bellezze. Se ci portiamo verso la nostra destra è stata ripulita qualche litro si sta mettendo in movimento. Dispiace perché poco fa ho sentito lei che diceva una delle più belle spiaggia. Potrebbe essere una delle più belle. È una delle più belle. Anche potrebbe diventare la zona in. Perché noi conosciamo la zona in, zona nord. Mio parere essendo la zona sud questo lo potrebbe diventare ancora di più. C'è una fuga di giovani, in primis io ho un figlio anche di 15 anni, tutti i pilone, litorane e litorane. Qua viene sfruttata da noi che magari siamo abituati a viverla, siamo abituati a questo mare indipendentemente alla temperatura dell'acqua. Si potrebbe fare molto di più. Già si è migliorato in questi anni perché prima questo non c'era. Io non faccio politica, io sono per il bene della città. Può governare qualsiasi parte politica. Le docce che prima non c'erano, qualcuno di tasca sua sta investendo dei soldi, facendo liti, cioschetti. Speriamo bene, che dire. Da 1 a 10 a questa spiaggia che voto diamo? Da 1 a 10 voglio essere di parte. Per come sto vedendo che si sta realizzando darei già un 7,5. Questa spiaggia è stata veramente rivalutata perché fino a qualche anno fa qua non c'era assolutamente niente. Però veramente chi fa questo sono gente veramente maleducata che non capisce comunque che si sta facendo tanto per cercare di rendere un posto migliore perché fino a poco tempo fa era selvaggio. Quindi vedere tutto questo è fantastico. Però sono degli... beh non si può dire comunque... Se dovessi dare un voto a questa spiaggia che voto gli daresti? Con fronte a come era prima 10. Deve migliorare tanto. Sicuramente deve migliorare tanto ma deve migliorare anche la testa delle persone che vivono qua. Si conclude qui il nostro primo viaggio. Quattro parametri. Servizi, food, pulizia e paesaggio. Adesso vota anche tu su Gazzetta del Sud.